Io vorrei parlare di numeri dell'andamento della festa, qualche uscita anche sui giornali era una attesa fatta nel percorso delle serate, devo dire che è stata la festa dei record perché credo che a me la festa della Mississima sia diventata il più grande vizio politico e culturale dell'estate. Le oltre 20.000 presenze dell'anno scorso le aveva superato, diciamo attorno alle 21.000, quindi è stata un'apoteosi anche la chiusura di domenica sera, quindi soddisfazione da fare di tutti gli organizzatori che ha collaborato con me per il grande successo di questa festa. E credo che tutta questa gente che in questi quattro giorni ci sono incontrate nella piazza di Serravalle, testimonia l'attaccamento anche da parte della gente verso il nostro partito. I sanmarinisi si sono stretti attorno alla democrazia cristiana come punto di riferimento, soprattutto in un momento difficile come questo e credo che abbiano chiesto anche alla democrazia cristiana di continuare a guidare il paese soprattutto in queste difficoltà. Quindi hanno chiesto sicurezza. e penso anche che nel messaggio che il segretario del partito ha dato nel discorso di chiusura della serata di domenica sera ci sia un messaggio di speranza verso tutti i sanmarinisi. Voglio chiudere solo ringraziando gli oltre 100 volontari che io ho coordinato, ma senza di loro non sarebbe possibile immaginare la realizzazione di un evento come questo. Un numero poi vi dirò anche di tutto quello che è stato consumato, che mi piace, scrive e dopo vi do una foto proprio di nuovo. Devo anche dire che domenica mattina si è svolta la nonna puristica dell'amicizia e anche qui oltre 300 partecipanti.